Perché sì? Voto sì perché questo paese ha bisogno di essere semplificato, questo paese ha bisogno di produrre dei meccanismi più rapidi, più veloci, perché questo è un paese che non può più attendere i tempi biblici della politica, i tempi biblici dei rapporti fra partiti per produrre delle leggi. È giunto il momento in questo paese di dare una scossa, è giunto il momento per questo paese di guardare avanti, questa non sarà la riforma che significherà tutto questo, ma è una riforma che va in questa direzione, quindi voterò sì. Ha parlato? Andrea Forlani, segretario del circolo PD Galvani.